Volevamo portare in casa una luce bella, come quella del sole, un sole che non avaglia, un sole che si può guardare. Bene, abbiamo iniziato a lavorare con fasce schermate e abbiamo avvolto un nucleo luminoso che iniziava a sorgere il nostro sole. Il profilo irregolare delle fasce rende così dinamico questo volume che sembra ruotare su se stesso. Un volume morbido diffonde una luce calda e proietta verso il basso un fascio di luce in mezzo. Un vero e proprio sole domestico che colora le giornate di rosso, bianco e acqua marina. Grazie a tutti.